Dove sta andando la ricerca sulla colangite biliare primitiva o PBC? Quali sono le evidenze sulle nuove possibilità di cura? Lo abbiamo chiesto a un vero esperto, al professor Pietro Invernizi, che abbiamo incontrato qui a Milano per la settima edizione del PBC Day. Professor Invernizi, parliamo di ricerca sulla PBC. Dove sta andando? Quali sono le direttrici più importanti e se potrete utilizzare anche i fondi del PNRR, che ha stanziato appunto dei fondi specifici per le malattie autoimmuni del fegato? Per la PBC ci sono ancora delle open question, sia da un punto di vista degli aspetti più di base, che vuol dire perché viene la malattia e quindi bisogna ancora lavorare in questo senso, sia negli aspetti clinici, quindi biomarcatori, nuove terapie, come usarle. Quindi quello che oggi si chiama la medicina di precisione, la definizione dei livelli di rischio per guidarci nelle scelte cliniche. In Italia abbiamo questo finanziamento che è il PNRR, grande finanziamento che ci arriva e ci sono anche, siamo riusciti come comunità medico-scientifica a intercettare dei fondi su progetti presentati e quindi avremo la possibilità di fare anche meglio quello che era già in programma di fare, quindi soprattutto su aspetti clinici, devo dire. La costruzione di una rete, una rete ancora più di quanto la stiamo già iniziando a costituire in Italia ed è fondamentale per una malattia rara perché bisogna lavorare insieme, tanti gruppi, tante informazioni di tanti pazienti, cliniche e di qualsiasi tipo, epidemiologico, ma anche per raccogliere campioni e poter fare la ricerca di base che poi ci porterà a capire il perché della malattia e capendo il perché della malattia riusciremo a gestirla meglio. Professore, a proposito di cure, lei qui al Convenio di Milano ha presentato dei nuovi dati di cosiddetta Real World Evidence, quindi i dati ricavati appunto nella vita reale nei pazienti di tutti i giorni, anche quelli appunto di un registro italiano, cosa ci dicono queste informazioni? Allora, intanto voglio dire che è veramente importante avere questi dati e quindi i registri e in Italia lo stiamo da un po' costituendo e ben strutturato, sono fondamentali per avere informazioni per capire e per pianificare che vengono poi anche oggi richieste dagli enti regolatori. Ecco, quindi questo, diciamo che in Italia siamo forse il paese più ben organizzato in questo senso, grazie al registro italiano PBC. Professore, nel registro si parla anche di terapia ed è l'unico farmaco che ha provato per questa indicazione come seconda linea di trattamento che è l'acido obeticorico. Cosa emerge dai dati di vita reale? Emerge una conferma della sua efficacia ma su numeri molto ampi e diciamo con quell'informazione che da un punto di vista scientifico ma anche medico interessa di più, cioè non solo la dimostrazione che è efficace in un setting artificiale che è quello dei trial clinici, delle sperimentazioni cliniche, ma quello che interessa di più cioè nella vita reale. Che sono poi i dati dello studio Ricapitulate al quale il suo centro ha partecipato. Esatto, questo studio raccoglie informazioni di pazienti trattati con questo farmaco di seconda linea, il più ampio in Europa e forse il più ampio a livello internazionale. Ovviamente la qualità delle informazioni che si riesce a ricavare è molto molto alta. Importante appunto che i dati degli studi randomizzati e controllati poi vengono confermati dalla vita reale, questo mi sembra che… Questo è quello che ho detto, esattamente così, ecco, ed è più importante confermarli nella vita reale, non che non lo sia dimostrarlo la prima volta, ma confermarlo nella vita reale è il vero, vero obiettivo.